Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Che impressione le fa? Intanto se deve difendere la nazione, come concilia Orbán filorusso con i bombardamenti in Ucraina? Oppure è d'accordo, è a favore delle democrazie liberali o di quelle illiberali che mettono addirittura in discussione la tripartizione dei poteri? Perché al cuore della discussione c'è questo. Da che parte vuole stare Giorgia Meloni? Con l'Ungheria d'Orban o con le grandi democrazie occidentali e liberali? Il punto è qui, non è quelle altre cose che vanno bene in un comizio ma che non risolvono i problemi. Perché se dici che dobbiamo difendere le nazioni dovresti dire... Certo, secondo lei quindi in questo momento Giorgia Meloni ha scelto, ha in qualche modo abbandonato Francia e Germania, ha scelto di stare più con l'ex fronte di Visegrad, è questa la sua impressione? Sì, perché verso le elezioni europee sente questa pressione della Lega su un fronte sovranista, non a caso Salvini invita Le Pen a Pontida e con il fatto che stanno fallendo completamente rispetto alla narrazione che avevano costruito con propaganda urlate attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili negli anni scorsi, rispetto al blocco persino degli sbarchi e la chiusura dei porti, è evidente che questo sta fallendo miseramente. Tenga conto che non lo dico io, lo dicono miei colleghi presidenti qui di Regioni del Nord, lo dicono sindaci della Lega o del centrodestra, con una gestione dell'immigrazione che è improvvisata perché hanno scommesso sul fatto che non ci sarebbe stata un'ondata drammatica come questa, della quale io non do colpa a loro, ma certamente quando tu annunci e urli, porti chiusi, è finita la pacchia, guerra ONG, prima gli italiani e poi ti ritrovi che nelle nostre comunità arrivano da un giorno all'altro, migranti su migranti, senza alcuna gestione organizzata e organica, questo elemento per i loro elettori è un bel problema. Oppure, concludo, quando tu fai i video davanti alle pompe di benzina e dici che se arriverai al governo, addirittura toglierai le accise, quando la benzina arriva a prezzi mai visti o raggiunti poche volte, è evidente che hai un problema perché le risorse non ci sono. Tenga conto che dalle parti del governo qualcuno, qualche mese fa, si era permesso di rallegrarsi perché la Germania era sostanzialmente in recessione tecnica e l'Italia nel primo trimestre era cresciuta più dell'uno. E quello è un problema invece. Il problema è che io mi permesi di dire, ma voi lo sapete che la Germania è il primo mercato di sbocco dell'export italiano ed è il primo nostro mercato di riferimento? Se si ferma la Germania veniamo trascinati giù anche noi e infatti il secondo trimestre abbiamo avuto una decrescita meno 0,4 e le previsioni del prossimo anno, anche a causa dell'azzeramento della crescita della Germania, saranno inferiori all'1% per l'Italia. Quindi alla fine della fiera e concludo, se tu ti sposti sull'alleanza con i paesi di Visegrad, rischi di creare un problema al nostro paese di relazioni e di rapporti con le grandi democrazie che lei ha citato. E io non credo che questo sarebbe un beneficio per l'Italia. Al netto, ripeto, che la prima domanda è ti piace quel tipo di democrazia? E non difendi in quel modo gli interessi nazionali. Presidente Bonacini, ieri in questo studio, quello di 8 e mezzo, da Lili Gruber, Ellie Schlein ha in qualche modo sulla vicenda di Lampedusa, della Tunisia, sconfessato un po' quella che era la dottrina Minniti, potremmo chiamarla, il ministro dell'interno. Le faccio sentire questa brevissima clip e le chiedo un commento molto rapido su questo. Vediamo. Abbiamo votato per non rifinanziare la guardia costiera libica e sa che io ho sempre pensato che fossero politiche sbagliate. Come sono sbagliate quelle che sta portando avanti il governo di Giorgia Meloni? Con gli accordi cinici con paesi che non rispettano i diritti fondamentali. La interrompo subito perché siccome a proposito sempre di immigrazione, lei oggi ha detto, parlando di Lampedusa, che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo. Ma chi la capisce se lei parla così? Guardi, glielo spiego molto chiaramente. Ma lo devo spiegare? Io lo posso anche capire. Lo spiego molto chiaramente. Vuol dire che pagare dittatori per tentare di bloccare i flussi non solo viola i diritti fondamentali delle persone, ma come è evidente da quello che accade, non blocca i flussi. Bonaccini, è quello che però si è sempre fatto. Pensiamo a Erdogan nella vicenda dei migranti e oggi con la Tunisia. è un no alla vecchia dottrina Minniti, o mi sbaglio? Che ne pensa Bonaccini? Evidente che Ellie ha sempre avuto questa opinione con lei e altri nel partito. Peraltro non funzionò del tutto bene quella scelta che pure io allora ha difesi. Io penso che noi però dobbiamo guardare avanti e non sempre ragionare con la testa rivolta al passato. E per guardare avanti bisogna che quando cerchi di aiutare paesi a crescere o a evitare che partano persone nell'idea che cresca una qualità democratica in quei paesi, sappiamo però che purtroppo molto spesso abbiamo a che fare con vere e proprie dittature che negano i diritti umani. Ed è da questo snodo complicatissimo che passa una decisione rispetto alla quale è giusto cercare di evitare vere ondate... Ma lei l'accordo l'avrebbe fatto? ...di migrazioni difficilmente gestibili se arrivano tutte insieme. Con Sayed l'accordo lo avrebbe firmato? Nel senso che con Sayed io l'accordo non l'avrei firmato così. Quell'accordo non mi pare un accordo che aiuti in tal senso. A me pare più un ricatto al quale siamo sottostati, dopodiché non sono uno contrario all'idea di firmare anche accordi di questo tipo in relazione ai bisogni che abbiamo di partenze o di arrivi che non siano tutti insieme e per ragioni a volte anche ciniche dagli stessi paesi e dagli stessi regimi. A che punto è la ricostruzione dopo l'alluvione, Presidente Bonacini? Il problema è che vediamo tanti annunci e pochi fatti. Adesso apprendo, ho letto delle agenzie, quindi non so perché nessuno mi ha comunicato nulla, che metterebbero a disposizione un altro po' di centinaia di milioni di euro per i danni, però anche qui. Ho letto un'agenzia che dice altri 600 milioni, in realtà no, perché da come l'ho capita io, ai poco meno di 300 milioni di euro che sono quelli che in questo momento sarebbero a disposizione del risarcimento, dei danni al 100% per famiglie e imprese, ne aggiungerebbero circa altrettanti. Solo che c'è un problema. Se sono 300, come ho capito io, o giù di lì quelli che metterebbero a disposizione, segnalo, come ho scritto nella lettera a Giorgia Meloni e al governo, che ci sono quasi un miliardo e duecento milioni di euro che non sono nelle mani del generale Figliuolo, che sono nelle mani dei ministeri, del lavoro e dell'export, che sono stati utilizzati invece che un miliardo e due, solo 50 milioni di euro, quindi ci sono più di un miliardo e cento milioni a disposizione, che loro conteggiano nei quattro miliardi e poco più, ma in realtà non sono conteggiabili lì perché non sono nelle disponibilità del commissario. Se anche di quel miliardo e cento a disposizione ne prendono 300, lei capisce che è semplicemente surreale la cosa. Degli altri 800 milioni che avete conteggiato, li volete mettere a disposizione degli alluvionati o no? Perché vede, se anche diventano 600, come mi auguri, milioni di euro, per i risarcimenti al 100%, segnalo che il governo, quando ha mandato la relazione, e ringrazio il governo, poche settimane fa all'Unione Europea, per attivare il fondo di solidarietà europeo quando c'è una calamità, 11 anni fa per il terremoto ricevemmo 700 milioni e abbiamo avuto rassicurazioni da von der Leyen e Gentiloni, che seppur non è un terremoto, ma diversi centinaia di milioni di euro ci arriverebbero, ha scritto 8 miliardi e mezzo di euro di danni. I danni delle famiglie, dei cittadini e delle imprese, cioè quelli privati, superano i 4 miliardi di euro. Ma se invece di 300 ne metti 600, ma mancano 3 miliardi e mezzo, si capisce che non arriveranno mai, se non sbloccano i fondi, il 100% dei rimborsi danni alle imprese e alle famiglie? Mi sembra giustamente arrabbiato e chiede spiegazione al governo.